buonasera a tutti amici da giuseppe adesso facciamo l'invaso dell'orchidea mettiamo la terra dentro il vaso questa posta per gli orchidei Oggi la metiamo in torno. Fino a che non si riempie tutto. Io proseguo, poi vi faccio vedere alla fine. A dopo. Eccoci qua, ritornati amici. Manca un altro po' di terra e poi abbiamo fatto un po' di terra, un po' di corteccia mischiata a radice qua, la alziamo su. Questa si è rotta. Ah no, questa è quella nuova, la si è rotta. Terziamo un po', giriamo, mettiamo un po' di qua. Premiamo un pochettino. Corteccia di pino. Cioè terriccio per orchidea. Scopriamo le radici. Un'altra pochettina qua. Giriamo una battutina. Si assesta un po' la pianta, le radici. Ho messa anche la terra in mezzo alle radici, eh. La vecchia l'ho tolta. No, che può bastare. Questa. Andiamo qua, arriva. La radici qua. Vale. Al posto. Ecco qua. Vediamo che... Faccia i fiori, ma più presto. Bocciano le orchidee. Adesso... Eccola qua, amici. Bellissimo. Video. Se vi è piaciuto mettete un like. Ed iscrivetevi. Grazie a tutti. Finisce qua il video. Alla prossima video. Ciao, ciao. Da Giuseppe.